È una stagione straordinaria davvero, con degli spettacoli davvero unici, in alcuni casi anche abbiamo due prime rappresentazioni assolute, qui da noi abbiamo opere barocche, bel canto, grandi capolavori come la Tosca, come la Carmen, l'apertura con Simone Boccanegra, un balletto, una stagione anche di danza straordinaria, abbiamo le scenografie di Cuttuso del 1970, abbiamo costumi custoditi nei nostri magazzini che sono stati recuperati, costumi d'epoca per la danza, abbiamo davvero grandissimi registi, grandissimi interpreti e tanti spettacoli in più, è un programma che cresce più del 30% rispetto a due anni fa e con molte rappresentazioni in più rispetto all'anno scorso, che spazia cronologicamente per generi e che ha una qualità altissima con tanto 900 oltre con capolavori senza tempo, quindi davvero è una stagione da non perdere, era giusto che fosse di questo livello proprio nell'anno del giubileo in cui Roma sarà un po' il centro del mondo ed era giusto che si presentasse con un programma stellare come questo che oggi abbiamo presentato.